buongiorno a tutti ragazzi del vostro carta curva nord allora sto video è un'ennesima dimostrazione a un video che feci precedentemente quando ho detto questo non è un dissing ma è solamente per farti capire e ancora una volta te lo faccio capire perché mi hanno fatto notare appunto che tu mi avresti risposto semplicemente dicendomi a me che ci vediamo in una live a quanto so praticamente non è la prima volta che dai questa rispostina allora dopo il video di ieri sembrerebbe che da quando io ho fatto uscire da queste labbra alcune cose anche il nostro amico amico in comune il mitico diego licorio ha ribatito la stessa cosa che ho ribatito io allora io mi faccio una domanda una domanda siamo tutti noi i deficienti stupidi o purtroppo sei tu che ancora non ci vedi sta cosa non la vedi non riesce a vederla perché purtroppo è invaso da scimmie a ammaestrate perché questi sono scimmie ammaestrate dove dicono sei un grande sei di qua sei di là sei di sopra e ancora una volta caro mario perdi due a zero una da me e una nei commenti di diego vabbè non voglio menzionare appunto il maestro donato inglese che anche lui si è legato a questa cosa quindi siamo tre a zero no siamo due a zero perché noi eravamo tu amici lui era praticamente semplicemente un tuo diciamo nemico e quant'altro stai cominciando a perdere colpi tu ok ormai sei all'apice come dicevo l'altra volta appunto della cupola però devi capire una cosa devi capire una cosa la differenza tra la virtualità e l'amicizia reale né un'altra non hai tenuto conto nemmeno di un'amicizia come diego ligorio io non dico tanto la mia che la mia è nata qua sopra non si è mai materializzata allo stadio purtroppo per i miei problemi appunto di lavoro non ho potuto mai incontrarti ma l'amicizia con diego ligorio la stai rovinando anzi per me già l'ha rovinata e rovinare una persona come diego ligorio sinceramente che ti ha fatto avere da quanto ho letto dai commenti tutto apparecchiato devo dire è un po meschina come cosa perché diego gli sapò di tutto ma che non è un uomo vero e che un pezzo di pane basta vederlo io ancora non ho avuto il piacere di vederlo ma lo vedrò non penso che ci vuole tanto a vederlo so alcuni fatti di te mario ma te lo ripeto non non posso fare qua perché io non mi piace così a me mi piace dire cose in faccia io sono altro diretto come appunto ho detto anche ieri il buon maestro donato io purtroppo sono una persona molto diretta e te lo dico subito stai veramente perdendo colpi stai perdendo colpi ma non te ne stai accorgendo forse probabilmente mi hai messo il cuoricino nel commento e mi hai anche scritto un privato che ti ho risposto sotto al video io l'ho capito che questa è una risposta al video ma qui ti stai rendendo conto che purtroppo le pagliacciate qui stai facendo commedia audience va bene le tue scimmie ti acclamano sei un grande perché c'hai tutte le scimmie che acclamano perché si sa no quando una persona viene seguita perché viene amata ma non si vede mai quello che c'è dietro è tutto normale siamo tutti capaci a mostrare davanti a uno schermo tutto ciò che praticamente ci fa piacere ma se la gente vedrebbe poi dietro chi sei e chi siamo tutti la gente si farebbe un po' una domanda si farebbe anche una risposta e dice ci devo pensare ma purtroppo l'italia è un paese dei ciechi proprio dei guerci proprio ognuno vuole mai vedere quello che vuole vedere perché altrimenti ci rimane male stai tradendo una cosa bellissima l'amicizia di tutti però l'amicizia è veramente una cosa sacra mi meraviglio di te dai su dalle tue origini appunto calabre appunto l'amicizia è una cosa sacra l'amicizia è una cosa sacra soprattutto perché hai perso una persona reale come diego perché diego l'hai visto io ho visto sempre insieme sia nelle live come dici tu ma ho visto anche il video dell'anno scorso quando stavo avanti di due anni fa quando che ho conosciuto appunto su youtube che stavate tutti e tre insieme fuori dallo stadio insieme a luca nell'azzurro con me si è nato tutto quanto qui ma c'eravamo promessi di vederci io ti ho sempre invitato appunto ti ho invitato anche la partita nonostante che tu non mi abbia invitato perché ha detto che non potevo io ti ho invitato passa un po un cart al curva nord di 4.000 iscritti ti ho invitato a te in una partita perché io ho considerato l'amicizia io ho invitato tutti non ho fatto esclusione ho invitato dal piccolo youtuberino al più grande perché io l'amicizia ancora la coltivo e l'amicizia ce l'ho ancora non a caso ieri anche se non me frega un cazzo delle visualizzazioni in hangout eravamo 10 cristiani che poi loro probabilmente alcuni potrebbe pure non essermi amici loro da parte loro però io non ho mai rifiutato nessuno io quando mi chiedono qualcosa ci sono per loro ci sono sempre e mi dimostro sempre una persona che comunque nonostante sia il più grande tra loro non gli vada a fare il gesto dello snob da frocio perché questo qua è un gesto da snob da frocio e sinceramente mai lo dai su riprendete oh stai all'ottantesimo occhio questa partita non si può più attrezzare ci abbiamo troppo possesso palla noi io diego e quant'altro non sapevo che anche giallucati aveva fatto un video non sapevo nulla perché io tutte queste cose purtroppo non eseguo però ti posso assicurare che questa volta purtroppo stai andando veramente troppo a fondo e se è arrivato diego ligorio a dirti questo che sinceramente io non ti dico che lo sento tutti i giorni perché non è che siamo non mi voglio permettere di rompergli le scatole non perché non vorrei perché non mi va di rompergli le scatole nonostante so che c'è la sua amicizia ma diego è un uomo con le palle quadrate e che all'amicizia ci ha tenuto perfino gli copi pure i video che lui voleva fare ma dai questa è una cosa brutta su comunque un solo consiglio breve e conciso riportateci a mario winter l'originale perché questo parerebbe il fake di quello che è stato conosciuto su youtube e cari e scimmie ammaestrate il consiglio che vi dice cartal andate sempre dai real se sapete che significa ma non penso perché per voi bla bla è tutto lui è un grande e noi saremo solamente dei stupidi comunque ciao marie buona giornata rifletti stai aperto a zero cambia modulo